Water the Origin of Life, questo è il titolo della personale dell'artista Massimo Onnis che verrà ospitata alla Sconci Art Gallery di Dubai, un riconoscimento importante per l'artista originario di Villa Cidro ma ormai nuorese ad adozione visto che vive e lavora nel capologo barbaricino da tantissimi anni. La mostra, patrocinata dall'ambasciata d'Italia negli Emirati Arabi Uniti, comprende 40 opere e verrà inaugurata il 5 aprile alla presenza dell'artista. Il filo conduttore dell'esposizione che si potrà visitare fino al 20 aprile è l'acqua come origine della vita, elemento indispensabile per il progresso dell'umanità ma anche spesso causa di morte. La personale vedrà l'esposizione anche di due sculture e di una grande installazione dal titolo Respect, dedicata alle vittime del mare e a coloro che scelgono questa via d'acqua per cercare la libertà, ma anche un jacuzzo contro chi specula sulla tratta di migranti. In questa intervista di alcuni mesi fa Massimo Onnis così racconta l'ispirazione che l'ha portato a creare l'opera che dà il titolo alla mostra, già esposta nel canale della pace alla Biennale di Venezia. Ma l'ispirazione nasce, intanto io ho voluto presentare un'opera di notevoli dimensioni, stiamo parlando di un'opera a due metri per due metri che vedete qui alle mie spalle, e parla dell'acqua, le origini della vita, dove appunto trasparenza e purezza sono quelli i fondamenti proprio dove l'uomo dovrebbe rientrare e per l'appunto dovrebbero essere trasformati e portatori di pace in tutto il mondo.